Siamo all'allineamento degli amatori MX1 e MX2 Stanno preparando, prima ci ha impressionato questo ragazzo Buccella E' caduto ma ha fatto una rimonta notevole, stile di guida veramente aggressivo Però a vincere la match è stato Cesare Turrini Che penso è la prima gara che vince in questa categoria Bella soddisfazione da Cesare in lotta serradissima con l'alfiere di MC Racing numero 181 Mi risponde al nome di San Paolesi San Paolesi L'arteriosclerosi si comincia un po' a sentire Bandiera verde, tutto pronto Quindi ci riassettiamo, una bella lotta ma con inserito il 25 che sta veramente cazzuto Vuole riscattarsi della prima match è andata male Pronti al via Via che scattano! La scattata è un po' a vincere la 68 Pupilli Pupilli che ogni tanto si fa sentire in partenza